Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video Allora, questo è un video che qualcuno di voi mi ha chiesto Dice, perché non fai un video sulle arti marziali? Il problema è che io non sono esperta nel settore Perché come sapete, io non faccio arti marziali Ma ho sempre fatto danza o ginnastica ritmica Quindi, non sono esperta Però, voi mi avete chiesto fare un video Per quel poco che magari posso aver sentito dire Provo a fare questo video Quindi, prendete con le pinze tutto quello che vi dirò Perché non sono proprio del settore Allora, praticamente io penso che le arti marziali Siano molto utili per difendersi Infatti, i miei genitori mi hanno sempre detto Visto che tu sei piccolina Perché non ti iscrivi a un corso di arti marziali Così ti impari a difenderti Se per caso qualcuno ti dà fastidio per la strada Io però non l'ho voluto mai fare Perché Ho sempre pensato Che le arti marziali sono cose da maschi Cosa più sbagliata di quella Non potevo dire Perché in realtà ci sono parecchie donne Che praticano arti marziali Anche ad alti livelli Perché Perché praticamente O per passione O perché magari sono donne Che dicono Che vogliono imparare a difendersi Perché Come sapete Ci sono un sacco di casi In cui le donne vengono Violentate Struplate Come cavolo si pronuncia Non lo so Vabbè Ci siamo capiti Quindi Quindi Le arti marziali Sotto questo punto di vista Sono molto utili Fatto sta che io penso Che una persona Non debba approfittare Di sapere Quella disciplina Per far del male agli altri Cioè Non esiste Che poi tu Mettiamo Ti impari quattro mosse E poi fai il classico Bulletto di quartiere Che terrorizza gli altri Cioè Benvenga a queste cose Però Se si può evitare È meglio Poi è chiaro Che se sei Con le spalle al muro In cui Vieni aggredito E tutto quanto Allora Tiri fuori la grinta E reagisci È normale Io penso Che conoscere Le arti marziali Sia molto utile Per esempio Quando si viaggia Perché Quando si viaggia Chi viaggia Per esempio In treno Sul treno Si fanno certi incontri Io parlo Per le ragazze Non tanto per i maschi Perché i maschi Sono comunque Fisicamente più forti Però per le ragazze Si fanno certi incontri Infatti Io non prendo mai il treno Se mi tocca prenderlo Mi farò il segno Della croce Speriamo che va tutto bene Però di solito Non viaggio in treno Cioè se sono da sola Non devo viaggiare in treno Assolutamente Però per dire Io penso che Questa disciplina Vada usata Con giudizio Perché Come sapete Ci sono dei punti mortali Per esempio Per esempio Un punto è qua Un altro punto è qua Per esempio Faccio degli esempi Quindi Anche ammesso Che si combatte Mettiamo O In palestra Per fare esercizio O nella vita reale Perché magari venite Aggrediti Occhio ai punti mortali Perché anche ammesso Che la persona Che avete davanti Va aggredita E tutto quanto Non è bello Secondo me Avere Qualcuno Sulla coscienza Quindi cercate Per esempio Di evitare questi punti Qua Per esempio Per fare un esempio Poi un consiglio Che do Se dovete tirare un pugno Mai così Capito? Vi potete far male Seriamente Invece così È molto meglio Però io Personalmente Ragazzi Sono contraria Alla violenza Quindi Io Non sono il tipo Che picchia Non sono il tipo Che mette le mani addosso Ho fatto questo video Soltanto perché Mi è stato chiesto Appunto Di farlo Io l'ho fatto Con molto piacere Cioè Non è stato un obbligo Per me assolutamente No Per me è piacere Infatti Se avete altri video Su richiesta Scriveteli Qui sotto Nei commenti Per me è piacere